La bambina volevo fare Elvis Presley, onestamente, perché è la verità, Elvis the Bells, e qua c'ho un'intervista che mi sono fatto a sei anni, cioè in realtà mi sono fatto cantare dal vivo una canzone in camera e registrandola, poi entra mia sorella e mi vergognavo molto. Vale lo faccio sentire in realtà, questa canzone qui, che non si capisce molto bene per via della pronuncia non ancora perfetta, e dice, my name is Elvis Presley, dice voglio suonare il rip it up, oh no rip it up, to the frulli. Even деле, appearances, and other, everybody, everybody! Grazie a tutti. Grazie a tutti.